Eccoci al Parlamento, ovviamente piove, che bello. La sfiga che ci perseguita, solo nei miei video accadono queste cose, bizzarre. Eccoci alla fonicola, oh mamma che fila, eh sì, comunque questa fonicolare si dovrebbe portare qui sopra a vedere il bastione del pescatore, il famoso chilometro zero, no dai però, tutto tranne che uno zero, ah è Pasqua, non si è capito, vero? Maffa mia che fila, cos'è? Ah sì che c'erano anche a Praga, un po' scherapesi di pizza fredda, oibo non è che fa tanto cosa, no invece ci fa metà di tutto. Allora, troveremo un altro modo per arrivare in sopra. Come? In inglese, sono ghiotti di limonata. Di limonata? Sì, è buona. Guarda, è souvenir. È un mio so. Dopo ci passiamo? Sì. Così prendiamo cavolato da portare via. Non c'è la verità che c'è una ponte c'era famosa. Mazzate che scalata. C'è un guanto abbandonato. Allora, siamo tornati al bastione del pescatore, questa volta senza pioggia si spera. Allora, siamo tornati al bastione del pescatore, questa volta senza pioggia si spera. Andiamo giù, dai. Qui c'è una bella vista. Il sole non si decide ad uscire fuori, figuriamoci. Questa che non si vuole. Sì, sì, per carità. Ieri ci siamo fatti il bagno. Ok, io sono un'ana, ragazzi, quindi mi devo un po' alzare. Ecco qua. E wow. Questi sono dei pigroni, diciamo, perché te la puoi fare benissimo a piedi. E niente, penso di aver ripreso abbastanza. Grazie. 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 Grazie.